L'associazione Coffrin è un'associazione di promozione sociale. Negli anni si è occupata di promuovere eventi sia sociali che sportivi, dedicati ai giovani e ai bambini, passeggiati in bicicletta, la piazza dello sport, la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Proprio per questo motivo tutti i soci dell'associazione sono disponibili a promuovere attività sportive per i giovani ragazzi che parteciperanno al progetto Tempessa di Sorrisi. Il progetto infatti avrà una parte dedicata totalmente all'attività sportiva, crossfit, basket, calcetto, paddle, tutte quelle attività che si possono svolgere all'aria aperta. Questo ci permetterà anche di utilizzare alcuni spazi da valorizzare, quale ad esempio il boschetto della Playa.